ok buongiorno ragazzi eccoci a un'altra lezione per quanto riguarda l'intelligenza artificiale oggi vediamo di utilizzarla per darci un supporto nella creazione di video short no quei video verticali molto brevi un minuto circa o più a volte fino a tre a seconda se utilizzate per tiktok piuttosto che per facebook piuttosto che per instagram youtube e quant'altro l'intelligenza artificiale in questo caso non ci dà il video chiaramente fatto e finito ma ci dà delle indicazioni importanti vediamo di che cosa si tratta allora ci troviamo qua all'interno del nostro solito pannello di chat cbt vedete qua quello classico quello che avete visto potete vedervi nelle lezioni precedenti quindi qua dove c'è scritto sotto invia un messaggio andiamo a scrivere di darmi delle idee su dei video short dedicati al mondo dei parrucchieri io parto così in supergenico figurativi se lo fate proprio mirato a un tipo di trattamento o altro cominciamo però con questa parte qua quindi io gli scrivo dammi 20 idee su video short dedicati ai trattamenti capelli dei parrucchieri do l'invio e lui comincia a questo punto a generarmi certamente ecco 20 video il nostro trattamento capelli trattanti in azione trasformiamo i capelli secchi in seta risolviamo problemi dei capelli col trattamento lisciante eccetera eccetera no vedete che se lo fate voi con esattamente anche le stesse parole cambierà sempre qualcosa però poco in conto vedete che lui ne ha tirati giù fondamentalmente 20 da una pausa di bellezza per i tuoi capelli trattamento alla rosa per capelli fragili insomma ci sono varie cose ma il punto non è questo quello che noi però dobbiamo fare e che soprattutto ci serve è avere la sequenza di quello che dobbiamo fare no cioè ma io vorrei fare un video quindi ci vuole prima un momento di di suspense no adesso scoprirai e poi c'è la soluzione e quindi vado a chiedergli di farmi questa cosa di dividerlo magari in una tabella perché sia più semplice in modo tale che io poi lo possa utilizzare e anche qua vediamo quindi sempre qua nel nostro messaggio io mi sono già scritto il testo per comodità per ciascuno dei 20 video crea un breve script composto da due parti di script e quindi la sequenza esatta delle istruzioni quello che voi dovreste creare anche con i vostri dipendenti in salone quando arriva una cliente devi fargli questa domanda poi devi chiedere di quest'altra devi fargli l'offerta soltanto a questo punto cioè questo è lo script no se lei ti dici di sì fai così se ti dici di no così ti do tutti gli strumenti in modo tale che quello che succede in salone sia replicabile di giorno in giorno dopodiché alla fine del mese alla fine della settimana si guarda abbiamo fatto così ne abbiamo chiusi 10 su 20 50 per cento proviamo a modificarlo in quest'altro modo ok ne abbiamo chiusi 12 su 20 siamo saliti di percentuale e in questo modo il salone riesce a capire dove sta andando e nel caso inserisca un nuovo collaboratore o un nuovo qualcosa di diverso capisce se quella cosa funziona o meno piccola parentesi quindi per ciascuno dei 20 video che è un breve script composto da due parti la prima parte deve creare curiosità e suspense in modo da invogliare ad aspettare la seconda parte che durerà circa sette secondi la seconda parte presenterà la soluzione dispone tutto il materiale in una tabella quindi io voglio prima una parte di sette secondi poi voglio una parte più breve questo concetto e anche qua gli do l'invio a questo punto qua comincio a lavorare no ecco video vedete che mi crea proprio anche la tabella su quello che devo fare in modo tale che ho proprio ben preciso la mia idea e il mio concetto da sviluppare poi chiaro che devo personalizzare il tutto però vedete che lui lavora molto molto bene ed ha delle cose che magari non avevamo mai pensato su come presentarle ci risolve un sacco di problematiche sia per come lo presentiamo ai clienti per quanto riguarda le parole sia come introduzione di video per fai una domanda oppure crei un problema e dai la risposta andiamo a vedere che cosa ha fatto hai mai sognato di trasformare i tuoi capelli secchi in seta aspetta e scopri vedete che adesso ve lo ringrandisco ancora un po perfetto così no nella seconda parte qua il nostro trattamento capelli idratanti farà la magia guarda ora e a questo punto parte il vostro video dove raccontate questo fondamentalmente una sequenza che mettiamo davanti a tutti i video che state creando normalmente però lui vi dice esattamente cosa dovete scrivere addio ai capelli crespi ma come facciamo continua a guardare e poi il trattamento lisciante è la chiave per i capelli lisci e splendidi a questo punto qua ci sarà il vostro il nome particolare che gli avete dato e quant'altro ai capelli danneggiati la soluzione più vicina di quanto pensi resta sostenizzato poi partono i tre puntini la diciamo la transizione si apre la nuova schermata e scopri come il nostro trattamento di costruzione capillare può riparare i danni ancora il segreto per capelli sani inizia il cuoio capelluto cosa stiamo per fare non perdertelo e poi parte di nuovo il massaggio del cuoio capelluto migliora la salute dei tuoi capelli scopri l'olora e così via tutta la sequenza consiglio è prendete questi questi scritti questi queste parole magari personalizzate un attimo andate in canva create la prima schermata canva c'è il corso apposta su come utilizzarlo oppure utilizzati qualsiasi tool anche direttamente l'editor di instagram che crea i video no mettete la prima frase poi fatta la transizione e mettete la seconda frase e l'avete un aiuto importante sia per come proporre un trattamento o vedere che cosa anche fondamentalmente potreste fare nel vostro salone se siete sempre più specifici lui creerà tutta una serie di seguente di domande e risposte o di attesa per i vostri clienti ok spero che questa cosa vi sia piaciuto e nel frattempo vi ricordo l'appuntamento di stasera perché avremo ospite christian per in tcc italia dove parleremo sia del flusso dei clienti clienti freddi clienti caldi ma anche di una incredibile offerta che tcc fa per voi che fondamentalmente non vi vende niente ma vi regala una cosa davvero importante ok ci vediamo stasera ciao a tutti ragazzi